Vessato dalla famiglia perché gay, adesso rischia di andare a processo lui stesso per i maltrattamenti nei confronti della madre. È stata fissata infatti per il prossimo 10 dicembre l'udienza davanti al GIP di Arezzo per il caso di Giacomo, il giovane aretino vessato dalla famiglia per il suo orientamento sessuale e buttato fuori di casa. Una storia familiare complicata in cui la madre a sua volta aveva denunciato Giacomo per essere stata, a suo dire, maltrattata e aggredita nelle varie discussioni avute con il figlio. Giacomo ha 28 anni, abita nel Val d'Arno aretino. Ci aveva raccontato mesi fa di violenze, sia fisiche che psicologiche, quando, due anni fa, ha deciso di fare coming out. Adesso, per la vicenda, è stata richiesta dalla PM l'archiviazione, ma la madre del ragazzo è determinata a non mollare, impugnando davanti al GIP il provvedimento nell'interno di far proseguire le indagini ed essere riconosciuta vittima del comportamento aggressivo e maltrattamenti da parte del figlio, capovolgendo di fatto il ruolo dei protagonisti.